Elisa Bonaparte Baciocchi, nata Maria Anna il 3 gennaio 1777 ad Agliaccio. Fu una principessa imperiale francese e sorella minore dell'imperatore Napoleone Bonaparte. Fu sposata con il capitano Corso Felice Baciocchi, dal quale ebbe due figlie. Elisa Bonaparte ebbe un'infanzia e un'adolescenza difficili. La sua famiglia era povera e il padre, Carlo Bonaparte, era un uomo violento. Nel 1784, Elisa fu ammessa all'Istituto Reale di Saint-Cyr, una scuola militare femminile. Qui ricevette un'istruzione completa, che le permise di sviluppare le sue doti intellettuali e artistiche. Nel 1797, Elisa sposò Felice Baciocchi, un capitano Corso che aveva combattuto per la Repubblica Francese. Napoleone Bonaparte, che era diventato un generale di successo, appoggiò il matrimonio. Nel 1805, Napoleone Bonaparte fu incoronato imperatore di Francia. In quello stesso anno, creò il Principato di Lucca e Piombino e lo assegnò al fratello Felice. Elisa, che era una donna intelligente e ambiziosa, iniziò a governare il Principato al posto del marito. Elisa Bonaparte si rivelò una governatrice capace e lungimirante. Promosse lo sviluppo economico e culturale del Principato, fondando scuole, ospedali e altri edifici pubblici. Si interessò anche alla condizione delle donne e promulgò leggi per migliorare la loro vita. Nel 1809, Napoleone Bonaparte annesse il Principato di Lucca e Piombino al Granducato di Toscana. Elisa Bonaparte fu nominata Granduchessa di Toscana. Come Granduchessa, Elisa continuò a governare il territorio con saggezza e lungimiranza. Dopo la caduta dell'impero francese nel 1814, Elisa Bonaparte fu costretta a lasciare la Toscana. Si rifugiò in Italia, dove visse per il resto della sua vita. Morì a Villa Vicentina, in Friuli, il 7 agosto 1820. Elisa Bonaparte fu una donna forte e indipendente, che sfruttò le sue capacità per realizzare grandi cose. Fu una governatrice illuminata, che si impegnò a migliorare la vita dei suoi sudditi. Il suo contributo alla storia è ancora oggi riconosciuto e apprezzato. I successi di Elisa Bonaparte come governatrice Elisa Bonaparte Baciocchi fu una governatrice capace e lungimirante. Durante il suo regno, il Principato di Lucca e Piombino e il Granducato di Toscana conobbero un periodo di grande sviluppo economico e culturale. Tra i suoi principali successi, si possono ricordare La fondazione di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, che contribuirono a migliorare l'istruzione e la salute dei cittadini. La promozione di attività culturali, come il teatro, la musica e l'arte. La promulgazione di leggi a favore delle donne, come la legge che consentiva alle donne di ereditare i beni dei loro mariti. Elisa Bonaparte fu anche una grande mecenate delle arti. Sostenne artisti e letterati, contribuendo a diffondere la cultura in Italia. Il contributo di Elisa Bonaparte alla storia. Elisa Bonaparte Baciocchi fu una figura importante nella storia dell'Italia e dell'Europa. Fu una donna forte e indipendente, che sfruttò le sue capacità per realizzare grandi cose. Il suo contributo alla storia è ancora oggi riconosciuto e apprezzato. È considerata una delle figure femminili più importanti del periodo napoleonico. La figura di Elisa Bonaparte nella cultura. La figura di Elisa Bonaparte ha ispirato numerosi artisti e scrittori. Tra i più noti, si possono ricordare, lo scrittore francese Prosper Merimet, che scrisse un romanzo sulla sua vita, intitolato La Femme des Chambres du Prince. Il pittore francese Jean-Auguste Dominique Ingress, che la ritrasse in diversi dipinti. Il compositore italiano Gioachino Rossini, che le dedicò l'opera Elisabetta, regina d'Inghilterra. La figura di Elisa Bonaparte continua ad affascinare e a ispirare ancora oggi. È una figura complessa e contraddittoria, che incarna sia le luci che le ombre del periodo napoleonico.